Terra Amara ha trionfato e si è guadagnata un meritato posto in prima serata su Canale 5, nonostante le sfide e le tentazioni che hanno affrontato lungo il percorso. Il boom sorprendente durante il daytime, con una straordinaria affluenza di oltre 3 milioni di spettatori e uno share superiore al 24%, ha consolidato la posizione di questa SOP nel palinsesto serale di Mediaset. Il tanto atteso debutto di Terra Amara in prima serata è stato fissato per domenica 5 novembre, inizialmente occupando lo spazio che era stato previsto per Iocanto Generation. Questa mossa dimostra l'impatto straordinario che la serie ha avuto sul pubblico, spingendo Mediaset a darle uno spazio di rilievo in prima serata. La serie Terra Amara sarà ora in competizione diretta con altre popolari trasmissioni, come il celebre Che Tempo che fa su 9. Quest'ultimo ha raggiunto numeri impressionanti durante le prime due settimane, paragonabili a quelli di Canale 5 durante il Prime Time. Di conseguenza, la sfida tra queste trasmissioni promette di essere avvincente e potrebbe portare a una rivalità emozionante tra gli spettatori. La decisione di spostare Terra Amara in prima serata è un riconoscimento del suo successo e della sua crescente popolarità, dimostrando che il pubblico ha accolto con entusiasmo questa storia affascinante e coinvolgente. Nel frattempo, su Rai 1, si avvicina il finale della seconda stagione della popolare fiction cuori che ha costantemente attirato un vasto pubblico. Già dalla scorsa estate, si discuteva sulla possibilità di spostare la programmazione di Terra Amara in prima serata, ma alla fine questa decisione era stata rimandata. Ora, la scelta di dare alla SOP turca uno spazio serale potrebbe portare gioia a numerosi fan affezionati. L'interrogativo principale ora è se Canale 5 riuscirà a difendersi in prima serata. La tenacia e la determinazione di Terra Amara hanno sorpreso tutti, e la sua sfida con che tempo che fa su nove promette di essere una competizione affascinante. La domenica sera si preannuncia come un terreno di confronto tra queste due popolari trasmissioni, con gli spettatori pronti a sintonizzarsi per assistere a questa lotta per il predominio dello Cher. Chi avrà la meglio nella gara dello Cher della domenica sera? La risposta a questa domanda è avvolta nel mistero e sarà interessante vedere come si sviluppa questa competizione. I fan di entrambe le trasmissioni saranno in attesa dei risultati, pronti a sostenere i loro preferiti mentre il palinsesto televisivo diventa sempre più competitivo. È importante sottolineare che l'inserimento serale di Terra Amara nel palinsesto di Canale 5 non comporterà alcuna modifica alla sua attuale programmazione settimanale. La serie continuerà ad andare in onda regolarmente dal lunedì al sabato, con la giunta della domenica in prima serata. Questo è un segno del riconoscimento del grande successo e della fedeltà del pubblico che ha abbracciato la storia di Terra Amara. Finora sono stati trasmessi poco più di 420 episodi, che corrispondono alla terza stagione di un totale di quattro stagioni trasmesse in Turchia. Questo significa che in Italia ci stiamo avvicinando alla quarta e ultima stagione della serie. Questo dettaglio conferma che siamo in procinto di concludere questa affascinante avventura insieme ai personaggi di Terra Amara. In breve, la tanto attesa trasmissione serale di Terra Amara è finalmente diventata una realtà, e questo è un motivo di gioia per i numerosi fan che seguono la serie. Cosa ne pensate di questa eccitante notizia? Condividete le vostre opinioni nei commenti e non dimenticate di lasciare un like, condividere il video e iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!